Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisse. Parliamo in apertura del campionato di Serie D. Si è giocata la terz'ultima del torneo. Amiternina-Jesina 2-0, Celano-Campobasso 0-1, Cipitanovese-Fermana 3-1, Fano-Pesaro 3-2, Giulianova-Chieti 1-1, Agnonese-Matelica 1-0, Vecanatese-Castelfidardo 2-1, San Benedettese-Maceratese 1-1, Termoli-San Nicolò 1-0. In testa a due giornate ormai dal termine Maceratese 74, Fano 70, San Benedettese 59, Campobasso 55, Chieti 50, Cipitanovese 49, San Nicolò 46, Matelica e Giulianova 43, Iesina 41, Fermana 39, Recanatese 37, Amiternina e Termoli 35, Castelfidardo 30, Olimpio-Agnonese 28, Pesaro 26, Celano 16. Il Campobasso ha conquistato un altro successo esterno, ha realizzato il gol Miani dopo pochi secondi di gioco e poi il Campobasso ha tenuto comunque il campo con sufficiente autorevolezza contro l'ultima della classe. A Celano il Campobasso si prende sostanzialmente un posto nei play-off, per la matematica si aspetta ancora il punticino decisivo che può giungere dalle prossime due di campionato. In Abruzzo arriva la quindicesima vittoria stagionale, la quinta in esterno e il ventiseiesimo punto di Vullo, fuori i pani per un'influenza in panchina Tucci e Corpo che non entreranno. A Celano la sicurezza della retrocessione è arrivata una settimana fa, sporadiche le presenze sugli spalti del piccone, pittoresco il panorama della città che si arrampica sul monte Tino, altrimenti detto la serra di Celano. Compatto il solito gruppetto di Campobassani, quantificabile in 40 presenze che esultano già dopo 47 secondi. Per questo gol di Miani imbeccato di testa da Di Gennaro, il tutto è scaturito da un lancio di Minadeo. Immediato il vantaggio rosso-blu, questo che è stato il quattordicesimo sigillo di Miani, sarà pure il gol partita. L'esordio potrebbe far presagire anche a una goleada di marca molisana a fioccare, però sono soltanto le occasioni da rete, ecco in rapida sequenza quella del sesto su cui Cianci non angola troppo la sfera e quella del nono in cui Todino scodella sempre per Miani che prima sfiora, poi si dispera per il mancato raddoppio. A Celano l'onore della grinta riversata sul terreno di gioco, al ventitresimo apprezzabile la caparbietà di Luzzi che mette in mezzo per il tiro al volo di Piccirilli, respinto da Scudieri. Mezz'ora passata da poco per la conclusione di Buongiorno con pallone deviato in angolo, quest'ultimo ha avuto dei trascorsi nel campo basso proprio di Vullo in Lega Pro. A dieci dalla fine del primo tempo Todino rimette per Cianci che rompe ma manda a lato un buon pallone disegnato dal compagno. I ritmi sono da gita domenicale, si gioca a tratti in un silenzio surreale spezzato con forza dai cori quasi incessanti dei campobassani in Abruzzo. I Lupi dovrebbero mandare a casa ogni velleità abruzzese, due minuti della ripresa per il taglio orchestrato da Di Gennaro e Todino. Sulla loro strada c'è Amabile che respinge. Al quinto il tiro di Buongiorno non passa così lontano dall'incrocio dei pali anche se definirlo un pericolo e un parolone. Al quattordicesimo sfuriata a destra di Luzzi corregge Buongiorno. Maggi si guadagna la pagnotta di turno. La dignità aquilana è preservata dal cuore dei bianchi. I Lupi proprio non ce la fanno stroncare il Celano. Al ventiduesimo da Miani a Todino il dribbling è ok. Il tiro è strozzato sul più bello. Vullo fa uscire Di Gennaro per inserire Fusaro. Ci sono Todino e Cianci a supportare Miani. Dal ventinovesimo in campo pure Bernardi per Nicolai che esce con una smorfia di dolore in viso. I cambi sono la cronaca più rilevante. Succede il nulla in una partita da fine stagione e con poca sostanza ancora da offrire. Ci pensa Miani al quarantunesimo a vivacizzare il finale ma la conclusione esce davvero di un soffio. Chiudiamo con il tentativo di marfia che definire velleitario è un eufemismo. Per il Celano era già eccellenza da una settimana. Campobasso contento del ritorno ai tre punti in esterno e con l'idea velata ma esistente di presentare in estate domanda di ripescaggio in Lega Pro. L'ex Serie C potrebbe decretare tante morti societarie e quindi tanti posti da colmare. Perché non provarci con la sussistenza ovviamente di tutte le condizioni e a patto che tale gesto se fatto non faccia saltare il banco. A Termoli nonostante il successo con il San Nicolò restano due i punti di svantaggio dalla salvezza diretta da annotare l'espulsione assolutamente ingiustificata come abbiamo visto ieri sera durante Domenica Sport di Cremona. In Canale all'ottavo risultato utile consecutivo il Termoli che raggiunge la quinta vittoria nella gestione Pino Di Meo lo fa battendo e sudando le proverbiali sette camice il San Nicolò che arriva al Gino Cannarsa per giocarsi. Le ultime residue e speranze per agganciare il treno dei playoff ne uscirà una gara bulica giocata soprattutto nel primo tempo sia da una parte che dall'altra nella ripesa. Il Termoli fa muro dopo essere rimasta in dieci. Pronti via il Termoli studia benissimo l'avversario e dopo quattro minuti si vede subito l'intenzione di Giallorossi che è quella di vincere la partita e l'ottimo il recupero per la palla verso Ragazzo che prova la conclusione al quinto dalla media distanza palla abbondantemente alta sulla traversa risponde subito la formazione abruzzese con questo tentativo in corsa da parte di Petronio la palla schizzata da Micolucci scheggia la traversa e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco ma il Termoli è lì concentratissima la squadra di Di Meo sul lungo rinvio di Marco Lato tocca il pallone all'indietro on body per la conclusione in corsa di Luca Cremona l'ex di turno scarica in rete con tanta rabbia tutta quella che è in corpo il gran sinistro vincente il giocatore di Seregno in corsa è un gol fantastico, bellissimo nella fase di realizzazione è il gol che poi regala praticamente i tre punti alla Termoli che dovrà ovviamente stringere i denti fino alla fine eccolo qua il grandissimo gol di Luca Cremona croce delizia di un Termoli che vuole ovviamente la salvezza nel regular season Termoli che fa gioco fa tantissimo gioco al dodicesimo campo reale riesce a filtrare fra le fitte maglie della retroguardia del San Nicolò la posizione sua però viene segnalata irregolare viene annullato il 2-0 25esimo Marco Nato si deve salvare alla meno peggio sulla conclusione di Iaboni con il volo plastico dell'estremo difensore di Montebelluna che va a deviare la sfera in calcio d'angolo cresce il San Nicolò che cerca di sfruttare soprattutto gli spazi il cross in mezzo per la conclusione con il sinistro di Chiacchiaretta che non inquadra lo specchio della porta con la sfera che si spegne sul fondo però tra l'altro ben controllata da Marco Nato Termoli finale tutto per i giallorossi con la costruzione di Felici sul lado di destra il tunnel verso il suo diretto controllore arriva subito Scalbi per il cross prova la girata Santoro che doveva solo schiacciare il rete e lì poteva chiudere sicuramente la partita con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa è un Termoli che vuole subito cercare di chiudere il risultato per poi gestire la partita non un minuto da questo lungo lancio in profondità Cremona scatta sul filo del fuorigioco entra in contatto con un giocatore del San Nicolò che Mozzoni arrivano a contatto i due Cremona si ferma inspiegabilmente il direttore di gara lo va ad ammonire e quindi doppio giallo per simulazione è incredibile il giudizio del direttore di gara a Citarella della sezione di Matera va a estrarre il rosso per Cremona incredulo il giocatore in campo ma in piedi tutti i tifosi del Termoli a contestare Termoli che deve stringere i denti rinchiudersi nella propria metà campo e cercare le sortite in contropiede qui ci prova felice minuto numero 16 facile la parata del giovanissimo Lupinetti non succederà più da qui alla fine nulla più con il Termoli che aspetta i risultati e poi festeggia per l'incredibile vittoria l'ottavo risultato utile consecutivo testa giù eccolo qua l'abbraccio con i tifosi per questa escalation che continua per la formazione giallorossa che riesce a battere al Gino Cannarsa il San Nicolò per 1-0 e continua lo score positivo in gradatoria l'Olimpia agnonese ha superato di misura il Matelica ed ha agganciato la zona play out finisce 1-0 al Civitelle tra l'Olimpia agnonese e il Matelica una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato contrariamente ai padroni di casa che devono giocare queste ultime partite con l'impegno che metterebbero in una finale e in questa ce l'hanno messo tutto ma andiamo alla cronaca del match i Granata partono bene da subito e al quarto minuto di gioco Ibe da ottima posizione sfiora il gol ma il suo tiro è un filo fuori il Matelica risponde all'ottavo con un tiro insidioso di Api ma l'Itterio riesce a salvare il tutto sulla linea di porta al 22esimo ancora Lagnone all'attacco sempre con Ibe che riesce a tirare appena fuori dalla porta disturbato da due difensori avversari al 37esimo ci prova Cantoro con un tiro centrale che Spitoni para con facilità due minuti dopo al 39esimo Ricamato tenta il colpaccio dai 25 metri ma va un filo alto sulla traversa stessa sorte tocca a Dilullo e al suo tiro della distanza al 43esimo minuto di gioco sul finale al 44esimo l'occasione arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ricamato ma Spitoni nega la gioia a reti inviolate dunque si va negli spogliatoi con le immagini montate da Danilo Scarinci siamo nella ripresa al quarto minuto registriamo questo tentativo di Girolamini con un cross che viene intercettato in estremis da Litterio al 12esimo il pubblico e i giocatori Granata protestano per un presunto fallo di mano in area di Daddazio ma il direttore di gara Fusco della sezione di Brindisi fa proseguire il gioco al 14esimo il rigore lo fischia come ma per un fallo di Dilullo su Abbrosini il Civitelle si scalda con le proteste compresa la panchina Granata tant'è che Trillini e Sabelli vengono invitati a lasciare il terreno di gioco intanto al dischetto si posiziona proprio Abbrosini che clamorosamente sbaglia mandando alta la palla il risultato cambia al 29esimo e in favore dei padroni di casa Dilullo con un destro dal limite dell'area trafigge la rete marchigiana per 1-0 al 42esimo il Matelica ha l'occasione di pareggiare i conti su punizione ma Abbrosini becca in pieno il palo finisce dunque con una vittoria che riaccende le speranze per la cittadina di Agnone di giocarsi la gognata salvezza ai play-out purché si mantenga lo stesso spirito la stessa grinta e la stessa cattiveria fino alla fine di questo campionato Juniores nazionale nella semifinale play-off il Campo Basso ha superato la pratica sanbenedettese per 2-0 grazie ai gol al 25esimo del primo tempo di Progna al quinto della ripresa di Schipani l'altra semifinale ha visto il Celano superare la Miternina 2-1 sabato prossimo la finale Celano Campo Basso in campo alle 16 in caso di parità dopo i tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari in caso di persistenza di parità passerà il Celano per la migliore posizione in classifica Bocce il bocciodromo di Frosolone ha ospitato l'undicesimo trofeo città di Frosolone memoria all'Alelio Pallante gara individuale che ha visto affrontarsi ben 100 atleti di A1 la classifica al primo posto Colavecchia del bocciodromo comunale di Campo Basso il secondo Francesco Santoriello del Ricomillo di Salerno al terzo Corrato Puzzo della società La Torre di Campo Basso Anche quest'anno la bocciofila frosolonese è riuscita ad organizzare una manifestazione di altissimo livello appuntamento fisso per l'undicesimo trofeo città di Frosolone Memorial L'Alelio Pallante la gara individuale di bocce ha visto iscriversi 100 bocciofili di A1 e A fase di qualificazione come sempre dislocata su tutti i campi della regione con la finalissima ospitata nel bocciodromo di Frosolone al termine della gara nazionale è stato Luigi Colavecchia del bocciodromo comunale di Campo Basso a ottenere il successo su un Francesco Santoriello dell'Enrico Millo di Salerno a chiudere il podio terzo posto per Corrado Puzzo della società La Torre di Campo Basso a margine dell'evento l'editore di Telemolise Quintino Pallante che ha ringraziato la società del presidente Pasquale Mangione per il ricordo sempre affettuoso nei confronti del padre Lelio Sì quest'anno abbiamo anche l'onore di avere ben tre giocatori di Serie A1 quindi veramente questo sta diventando un torneo di rilevanza nazionale e di questo veramente ne sono orgoglioso sia per la città di Frosolone anche per il fatto che ormai sono otto anni che hanno intitolato questo memory alla memoria di mio padre e quindi davvero mi ha fatto un plauso all'associazione Bocciofila Frosolonese per organizzare questa manifestazione importantissima Dunque non solo questi campioni di A1 ma ci sono diversi giovani che si stanno affacciando su questo panorama nazionale di bocce con diversi ragazzi che sono stati presenti qui e che hanno sicuramente un futuro importante in questo sport Sì questa è una cosa veramente molto bella perché normalmente le bocce viene associato come uno sport che è diciamo più vicino alla figura dell'anziano questo oggi davvero viene sfatato questo falso mito perché oggi abbiamo in questo torneo ben tre ragazzi del 92 e quindi di 22 23 anni più altri ragazzi molto giovani anzi quindi bisogna dire quasi che è uno sport davvero per tutte le età Lo sport in questo caso inteso anche come non solo integrazione ma anche come valorizzazione del territorio in questo caso di Frosolone ma voglio dire quando si creano queste manifestazioni anche a livello turistico perché poi questi giocatori vengono da fuori alloggiano magari con le famiglie dunque anche per le attività commerciali del posto sono sicuramente le manifestazioni che fanno bene Sì sicuramente in questo periodo poi è sicuramente di aiuto alla comunità anche perché si riempie questi due giorni o anzi tre giorni direi con le preparazioni Frosolone di tanti giocatori e tante famiglie che vengono proprio per questo Memorial quindi è anche davvero un aiuto proprio per la città di Frosolone il Memorial è stato aperto dalla parata dei campioni oggi entra in onda la telecronaca della finale la coppia Noviello Santoriello ha superato con la vecchia Tizzano la differita solo su Telemolise Sport alle 15 a 30 alle 20 nuoto ottimo risultato per Pompeo Barbieri tesserato della Idrosporti in occasione dei campionati italiani giovanili della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per l'atleta di San Giuliano di Puglia sono arrivati due ori nel 100 stile libero 1-58-8 con il record italiano di categoria e nei 50 stile libero 52-7 campionato d'eccellenza ultima della stagione Casalnuovo Roccaravindola 0-2 Cliternina Riccia 3-3 Fornelli Roseto 3-5 Gambatesa Vairano 7-4 Isegna Santeliana 11-1 Montaquila Gioventù Dauna 0-1 Vasto Girardi Sesto Campano 1-1 Venafro Matese 0-1 Vincitrice del campionato ma questo già da tempo Lisernia 78 Gioventù Dauna 68 La Gioventù Dauna va direttamente ai playoff interregionali perché tra la seconda Gioventù Dauna 68 il Vasto Girardi terzo 54 ci sono più di 10 punti quindi non si procede alla disputa dei playoff Matese 53 Venafro 49 Riccia 47 Sesto Campano 46 Gambatesa 45 Roccaravindola 44 Vairano 36 Montaquila 35 Roseto 29 Casalnuovo 26 Santeliana 23 Cliternina 21 queste squadre vanno ai play out quindi i play out gli abbinamenti sono Roseto Cliternina e Casalnuovo Santeliana retrocesso direttamente in promozione il Fornelli 3 a 3 tra Cliternina e Riccia Adriatici ai play out per mantenere la categoria Cliternina di lotta e di play out che agguanta l'Olimpia Riccia sul 3 a 3 ed evita la retrocessione diretta in promozione i ragazzi di Anzivino sentono troppo la gara e partono con tratti al quinto già rischiano su questo tentativo velenoso di Delzingaro sventato da Melfi la Cliternina si scuota e reagisce con De Pascalis che in mischia impegna severamente Genovese al 17esimo è ancora Delzingaro a provarci ma Melfi gli dice ancora di no stessa sorte per Vinci Guerra con il portiere Biancorosso che si oppone con bravura poco male perché al 38esimo Delzingaro fa centro tiro radente dalla sinistra e pallone nel sacco per l'1 a 0 un minuto dopo Iallo potrebbe raddoppiare ma la fratta salve in extremis sulla linea di porta al 43esimo annunziato in proiezione offensiva sfiora l'incrocio con una voli di destro ma sul fine del primo tempo il Riccia raddoppia la difesa della Cliternina sale male con la linea del fuorigioco e lascia una tostata a Luca Cappelletti che solo davanti al Melfi fa 2 a 0 nella ripresa è un'altra Cliternina il Riccia visibilmente sulle gambe è tutto in questo tentativo di Cappelletti sventato da Melfi i biancorossi continuano a spingere e ci provano con De Martino ma il suo tentativo è centrale al 16esimo De Pascalis dalla bandierina cerca direttamente la porta e Genovese è chiamato agli straordinari i biancorossi non si arrendono e finalmente grazie a Pleno viene al volo l'angolo giusto e batte Genovese per l'1 a 2 il Pariggio potrebbe arrivare a stretto giro di posta ma la punizione di De Pascalis si infrange sul palo al 37esimo il Riccia ristabilisce le distanze Vinci Guerra batte rapidamente una punizione per Cappelletti che appoggia comodamente per Delzingaro che insacca l'1 a 3 la Cliternina non molle ancora grazie a Pleno ed elisea la platea con questo piazzato di sinistro che non lascia scampo a Genovese per il 2 a 3 lo stesso Grazie a Pleno va vicino al 3 a 3 ma il suo colpo di testa sfiora soltanto il palo ma non è finita secondo minuto di recupero angolo di De Pascalis dalla sinistra parabola a Beffard e palone che si insacca per il definitivo 3 a 3 per la Cliternina ora ci saranno le forche caudine dei play out mentre Riccia chiude con un pari una stagione davvero esaltante La telecronaca di Cliternina Riccia andrà in onda oggi alle 17 su Telemolise 2 alle 21 su Telemolise Sport il Fornelli ha ceduto al Roseto ed ha scritto la retrocessione diretta Al comunale di Fornelli quest'ultima giornata di campionato di eccellenza ci regala tanti gol e altrettante emozioni termina 3 a 5 il confronto fra Fornelli e Roseto risultato che quindi condanna i biancoverdi alla retrocessione al campionato di cadetteria arbitra il signor Vitulli della sezione di Sulmona coadiuvato da Pizzi e Viotti ma andiamo alla cronaca dei 90 minuti ad un solo giro di oloroggio arriva già il primo gol a mettere la firma è classe 97 De Clemente che insacca direttamente da calcio di punizione passa solo un minuto e il parigio è servito Circelli calcia dalla sinistra dell'area di rigore e Fredda Giuliano per il parigio ospite al sesto è il Fornelli a provarci con De Clemente che prova la conclusione De Bellis respinge e sulla ribattuta si fa trovare Ciarlante che però spara centrale al nono però il Roseto raddoppia Borcia fa tutto da solo la difesa biancoverde dorme e il numero 10 ospite manda con un pallonetto la sfera in fondo al sacco al diciassettesimo protagonista sempre De Clemente che stampa in pieno la traversa sulla ribattuta arriva Ciarlante di testa che però manda centrale al ventunesimo arriva anche il trisospite d'asillo mette in mezzo Granatiero cerca di allontanare il pallone ma scappa l'autogol al ventiduesimo De Clemente si destreggia poi spara ma De Bellis spara al quarantaduesimo Ucci si scontra con De Bellis ad avere la peggio è il portiere del Roseto che deve abbandonare il campo alla fine del primo tempo si parla di un trauma cranico ma si dovranno fare ancora accertamenti e proprio all'ultimo minuto del primo tempo il 10 di casa insacca il gol del 2 a 3 accorciando a una rete di svantaggio terminano così i primi 45 minuti di gioco e con le immagini montate da Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa passano 5 minuti e arriva il quarto con l'ospite Longo mette in mezzo per Barisciami che con un euro goal si gre 4 a 2 al 26esimo arriva anche il 5 a 2 a mettere la firma sulla doppietta personale e Circelli che si scarta Giuliano e manda in fondo al sacco nel finale anche il Fornelli accorcia 5 a 3 Curci a terra rogga e per il direttore di gara è rigore sul dischetto va proprio rogga che insacca in rete termina così la gara Roseto che giocherà i play out in casa contro la Gliternina Fornelli che retrocede e si prepara al campionato di promozione che giocherà con una nuova società e nuovi giocatori Il Gambatesa ha battuto per 7 a 4 il comprensorio Vairano Classica partita di fine stagione per il Gambatese la Vairanese sono i padroni di casa a vincere con un perentorio 7 a 4 una partita molto divertente piena di gol e di emozioni andiamo subito alla cronaca al quarto minuto il Gambatesa sfiora il vantaggio con un diagonale di Toskes non passano neanche 60 secondi che la squadra di casa si porta sull'1-0 con Del Re che si lancia in controvede primo tiro parato da Argenziano sul secondo invece l'attaccante fa gol al settimo punizione di Polzella con la palla che si ora la traversa al tredicesimo si fanno vedere i campani Cianciullo esce male la palla arriva a Piserti a gran tiro ma Florio salva di testa il pareggio comunque scritto e arriva al quindicesimo tiro di Grillo la palla si impenna per una deviazione per Cianciullo non c'è nulla da fare al ventesimo Del Re sfugge a guadagno cross ma la sfera non arriva a Polzella il gol comunque c'è e arriva al minuto numero 27 Polzella in becca Del Re il quale a sua volta lancia Bianco che scatta al limite del fuorigioco il tiro della punta è perfetto ed arriva il 2-1 al trentatresimo altro ha possibilità di fare il 3-1 con Bianco che spara alto la punta comunque è in forma e al trentacinquesimo va a segno cioccolatino di abuso per il numero 10 tiro e palla in fondo al satco al trentottesimo guadagno mette alla prova Cianciullo che si deve rifugiare in corner al quarantunesimo quarto gol della Gambatesa assist al bacio di Polzella colpo di testa di Bianco e per Argenziano non c'è nulla da fare il 4-2 comunque si materializza 60 secondi dopo con Antonio Latina che si inventa un esterno destro favoloso palla sotto l'incrocio al decimo della ripresa Grillo sfiora doppietta personale con un lob che non c'entra la porta per questione di centimetri al quindicesimo del re si presenta solo davanti al portiere il quale gli respinge il tiro con i piedi al sedicesimo gol sbagliato gol subito il nuovo entrato Capaccione fa partire un eccellente esterno destro sul quale il portiere Cianciullo non può nulla al diciottesimo ancora del re ha la chance per segnare il 5-3 ma Argenziano tocca il pallone e lo manda in calcio d'angolo comunque 60 secondi più tardi Bianco viene messo giù calcio di ricore per il signor Bruscino dal dischetto si presenta Tosches tiro sotto l'incrocio e gol neanche il tempo di esultare che la veranese ritorna nuovamente in partito lancia di Tedeschi la difesa dorme arriva Grillo tiro a scendere e palla in fondo al sacco 5-4 al 27esimo proteste copiose da parte degli ospiti per un gol annullato allo stesso Grillo segnalata una posizione di offside proprio dell'attaccante ex Boiano su cross di Antonio Latina al 41esimo Guadagno ci prova su punizione ma il suo tiro fa la barba all'incrocio dei pali gli ultimi gol arrivano a tempo scaduto al 46esimo Aniello si fa un costo cost tiro deviato e palla che non può essere presa da Argenziano al 48esimo poi c'è Abiuso che si procura il secondo calcio di rigore di giornata va proprio lo stesso giocatore con la maglia numero 8 dal dischetto Argenziano para arriva Federico Di Lallo e segna la rete del 7-4 si chiude in questo modo la stagione della Gambatesa e della Vairanese una stagione positiva per entrambe le formazioni adesso si pensa già al prossimo campionato campionato di promozione anche qui ultima della stagione Castelmauro Alife 4-5 Frentani Aspinete 3-2 Toro Petacciato 0-2 Macchia Pietra Montecorvino 3-2 Montenero Cerce Maggiore 5-0 Vinchiaturo Prata 2-0 San Martino Ripalimosani 3-0 Torre Magliano Campodipietra 2-1 Allora qui al primo posto il Macchia 66 al secondo il Montenero 64 che sono promosse direttamente in eccellenza vanno ai play-off Pietra Montecorvino 60 Alife 57 Spinete 46 Campodipietra 45 Gli abbinamenti play-off alle semifinali sono Pietra Montecorvino Campodipietra e Alife Spinete Torre Magliano 44 San Martino 38 insieme al Vinchiaturo Cerce Maggiore 37 Petacciato 36 Frentania 35 Prata 34 Toro 28 Castelmauro 24 Ai play-out giocheranno Frentania Castelmauro e Real Prata Toro Retrocesso in prima categoria il Ripalimosani Due promozioni in altrettanti campionati per il Macchia di Serna che con il successo sul Pietra Montecorvino ha conquistato l'eccellenza Il destino ha voluto che il Macchia di Serna e il Pietra Montecorvino si giocassero l'eccellenza proprio in quest'ultima giornata Alla squadra di casa serve un punto o la vittoria per aggiudicarsi la promozione mentre il Pietra Montecorvino per la promozione diretta serve la vittoria più un belle notizie da Montenero di Bisaccia ma passiamo subito alla cronaca del match al dodicesimo minuto passa subito in vantaggio il Macchia di Serna palla lunga in area per Mancini ottimo controllo salta un uomo tira e batte Perna 1-0 a questo punto il Pietra Montecorvino si butta tutto in attacco a caccia del pareggio e il Macchia di Serna prova a colpire in contropiede come al diciottesimo Mancini palla lunga il pallone però finisce fuori al trentesimo minuto ci prova il Pietra Montecorvino con Vannelli però il suo tiro è deviato da Miele al trentunesimo minuto altro contropiede Mancini entra in area di rigore tira Perna para di piede la palla finisce ancora al numero 9 che si libera con il sinistro ma la sua palla è debole e finisce tra le braccia del portiere del Pietra Montecorvino al quarantesimo ci prova ancora il Macchia di Serna in contropiede di Pilla dentro per Antinone destro che però finisce sull'esterno della rete al quarantacinquesimo succede quello che non ti aspetti calcio d'angolo per il Pietra Montecorvino batte Papa doppio velo in area di rigore sul dischetto arriva Vannella che batte Miele e fa uno a uno con le immagini montate da Andrea Fatica passiamo alla ripresa dove c'è proprio il Pietra Montecorvino che dovrebbe andare a caccia della vittoria ma al primo minuto ci prova subito i padroni di casa con Mancini che tira ma perna devia con la palla che passa sotto la pancia e debolmente finisce sul palo poi la difesa riesce a liberare a questo punto si butta in avanti il Pietra Montecorvino con il destro dal dischetto da parte di Damore la palla però finisce di poco fuori al ventisettesimo ancora una volta passa in vantaggio il Macchia di Sernia calcio d'angolo c'è Cifelli che tira la palla buca tutti e finisce in porta perna prova la presa ma non può nulla 2 a 1 da rivedere la bella esecuzione da parte di Cifelli colpito il Pietra Montecorvino subisce il terzo gol al trentesimo minuto altro contropiede condito dall'errore della difesa degli ospiti con Bianchi che calcia batte perna e fa 3 a 1 al trentatresimo prova a questo punto a rispondere il Pietra Montecorvino palla per D'Amore che riesce a calciare ma Miele riesce a bloccare il pallone al trentasettesimo minuto c'è il gol che accorcia le distanze grazie all'autorete realizzata da Cerasuolo palla in area di rigore il numero 2 colpisce di tessa per anticipare Ferro Miele era in uscita e il pallone si inzacca alle spalle del portiere 3 a 2 al quarantesimo però si accende un piccolo capannello Papa va a commettere fallo su Succi l'arbitro non fischia il numero 4 molto nervoso va a dare rifilare questo calcione al numero 10 tutti chiedono l'espulsione diretta ma per l'arbitro non è così solamente cartellino giallo noi rivediamo la violenza con il quale Succi va a colpire il proprio avversario direttamente sulle gambe a questo punto però l'arbitro riesce a ristabilire l'ordine e regala 5 minuti di recupero in cui il Pietra Montecorvino si butta tutto in avanti a caccia almeno del gol del pareggio ma non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero può partire la festa dei padroni di casa grazie al trepice fischio da parte di Barbieri Macchia di Sernia batte Pietra Montecorvino 3 a 2 festa grande per i padroni di casa che grazie a questa vittoria vincono anche il campionato di promozione edizione 2014-2015 Pietra Montecorvino che con questa sconfitta ora dovrà giocarsi l'accesso all'eccellenza tramite i playoff che cominceranno già la settimana prossima visto che la seconda in classifica arriva il Montenero di Bisaccia Calcio giovanile la scuola calcio Mirabello ha organizzato il trofeo San Giorgio la vittoria è andata al Napoli il campo sportivo di Mirabello ha ospitato una 4 giorni dedicata a tutte le fasce del settore giovanile l'undicesima edizione del trofeo San Giorgio manifestazione nazionale di calcio riservata alle categorie pulcini esordienti e giovanissimi è stato organizzato dalla scuola calcio Mirabello nei primi tre giorni di gare spazio solo alle scuole calcio regionali mentre sabato il clou dell'evento con Napoli Bari e Pescara rappresentare il Molise San Leo Cisernia Santi Pietro e Paolo e la società organizzatrice il tabellone principale ha visto la divisione delle sei squadre in due triangolari Bari Pescara e Santi Pietro e Paolo contro Napoli San Leo Cisernia e Mirabello nel primo tabellone il Pescara ha perso 2 a 0 sia con il Bari che con i Santi Pietro e Paolo è terminata 0 a 0 la gara tra Bari e Santi Pietro e Paolo nell'ultimo tabellone il Napoli ha prima vinto con il San Leo Cisernia per 3 a 1 e poi ha perso 4 a 3 con il Mirabello l'ultima gara tra Mirabello e San Leo Cisernia è terminata 1 a 1 hanno vinto ai rigori 4 a 2 la formazione e Pentra classifica finale sesto posto per il Pescara che è stato superato 1 a 0 dal Mirabello quinto medaglia di bronzo per il San Leo Cio che ha superato di misura il Bari nella finale il Napoli si è imposto 3 a 1 sui Santi Pietro e Paolo adesso vediamo le grafiche di prima categoria Girone A con Cacasale Matese 1 a 3 Colli Sanniti 3 a 0 Forulum Rufre 2 a 1 Carullo Mignano 1 a 3 Montenero Pozzilli 3 a 0 Rocca Sicura Carpinone 10 a 0 Sestolese Pizzone 3 a 0 Riposato Pesche Intesta Sestolese 64 Matese 59 Rocca Sicura 56 Girone B Boiano Doinkes 2 a 5 Cerce Maggiore Torella 3 a 3 Macchia Civitanova 0 a 0 Murgansia Carlantino 5 a 0 Gildone Ielsi 2 a 0 Trearchi Fossaltese 2 a 1 Volturino Baranello 1 a 2 Riposato Mirabello Invetta Baranello 59 Ielsi 58 Poi troviamo Doinkes Civitanova 46 Girone C Acli Larino 1 a 0 Campomarino Colletorta 9 a 1 Fiamma Chieuti 1 a 2 Molise Quartiene Nord 2 a 2 Petacciatese Ururi 2 a 1 Portocannone San Felice 1 a 1 Sant'Angelo Guglionesi 1 a 2 Riposato Campobasso Calcio Qui in Vetta La Classifica Troviamo Guglionesi 66 Campomarino 65 Ururi E Chieuti 55 Vi ricordo L'appuntamento Con Molise A Calci Stasera Alle ore 21 Con Gianni Bruno Tabita Morgese Avremo ospiti Commenti Opinione Naturalmente La nostra Attesissima Moviola Molise A Calci Stasera Alle 21 Su Tele Molise E' tutto Buon pomeriggio Corez Ecήσione L要 21 Per Janja Grrrr Ench Abinione Grazie.